Questo programma è stato presentato da CK Watchings e da Interflora in tutto il mondo, anche su internet. Nuovi Doricrem a Lo Zabaione, ecco un'idea davvero buona, provatela. Siamo in sparsmodica attesa di trasmettervi il primo film di Aldo Giovanni e Giacomo. Si arrivano in tempo. Comunque mettiti le cinture. Che serve? Stiamo andando a 30 all'ora! Visto? Non sei bastardo, è pignolo. Tre uomini e una gamba sono in viaggio per Canale 5. Amaro Montenegro. Sapore vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come immaginavo signora, è lo scatto alla risposta. Ma non si preoccupi, per i telefoni c'è la cura. Io che faccio, mi sparo. Per prima cosa mi si abbona subito, subito Wind e così eliminiamo gli scatti alla risposta. E per risparmiare ancora di più, quando le sue telefonate si allungano, ci sono le nuove tariffe Wind Light. Più passa il tempo, meno pesano. Il prossimo. Buongiorno. Problemi di telefoni? Prego, si spogli. Bella tariffa. È meglio che ci pensi bene prima di entrare nella cella con questo. Perché? È gigantesco. Merita di friggere per quello che ha fatto. È stato trovato con le vittime ancora fra le braccia. Io non credo che sia stato lui. Prendi la mia mano, capo. Io non credo che Dio metterebbe un dono del genere nelle mani di un uomo che uccide bambini. Dal regista di Leali della Libertà. È stato una specie di miracolo. Tom Hanks. Esatto. Il Miglio Verde. Il libro antico si mette in mostra. Undicesima mostra del libro antico. Fiera Milano. 10-12 marzo. I computer possono pensare, possono imparare. Può un software simulare la mente umana? Per 50 anni ci siamo posti queste domande. Oggi i Nugents sono la risposta. Utilizzando la sofisticata tecnologia delle reti neurali, Computer Associates ha creato il primo software capace di pensare. Provate a immaginare cosa potrebbe fare questo software per il vostro business. Nugents. Il software che pensa. Smart con cellula Tridion in acciaio. Un giorno... Un giorno... La libertà del movimento. Finalmente mi sono liberato di quei due scocciatò. E adesso mi posso mangiare lo yomo. Con gli agrumi di Sicilia. Mi sento il sapore della mia terra. La frutta vera, gli aranci, i limoni, i carretti siciliani. Ma dove l'ho messo? Senti, trovo, lo sai cosa che fai? Ma dove l'ho messo? Mi! Yomo! Allora, va! Yomo omogeneo con la frutta. Lo yogurt più naturale dell'universo. Non ci credi? Provalo! Un sorriso per incominciare. Un sorriso scegli per amico. Vieni a sorridere da noi. Succede solo da McDonald's. Basta poco per far tacere il mal di testa. Toprek. Una compressa così piccola, così rapida. È un medicinale che può avere effetti collaterali e controindicazioni. Non somministrare sotto i 15 anni. Leggere il foglio illustrativo. Mal di testa? Basta poco. Basta Toprek. Non somministrare sotto i 15 anni. Non somministrare sotto i 15 anni.